Ciao amici di Passione Italiana, bentornati a un'altra co-lezione coi gemelli. I bambini stanno imparando a parlare e stanno imparando a parlare come parla la mamma, solo in italiano, e come parla il papà, in inglese. Quindi spero che questi video vi possano aiutare a imparare nuovi vocaboli o a ripassare. Oggi parliamo della frutta. Ciao amici di Passione Italiana, mamma dice mela, papà dice acco, brava, mamma dice anguria, papà dice mamma dice banana banana papà dice banana mamma dice mela papà dice mela papà papà mamma dice mertillo papà papà dice apari brava mamma dice mora pat statistically Mamma dice lampone, papà dice... Mamma dice fragola, papà dice... Bravi! Ciao! Mi raccomando se vi piacciono i nostri video non vi dimenticate di fare like, iscrivervi al nostro canale o diventare patreons per continuare a supportarci. Grazie, ciao!